Per questo, quando utilizzi gli oli essenziali, vuoi avere la certezza che possano offrirti tutta la loro efficacia terapeutica. Quando scegli gli oli essenziali, vuoi essere certo della loro purezza e potere officinale. È fondamentale che un olio essenziale sia puro ed abbia un elevato potere terapeutico. L'efficacia del potere officinale inizia dalla pianta stessa. La stessa specie potrebbe essere coltivata e cresciuta in ambienti diversi e allora avremo una variazione nella loro composizione chimica. Quando le piante sono coltivate su un terreno ottimale, con clima e temperature ideali, produrranno un olio essenziale di qualità superiore, il migliore che la natura possa offrire. Questo è solo metà dell'equazione. Infatti la purezza gioca un ruolo altrettanto importante. Molti degli oli essenziali disponibili sul mercato non hanno la certificazione di purezza. Spesso contengono additivi sintetici ed altri elementi che ne diluiscono e ne alterano la purezza. Questo riduce le qualità salutari di un olio. DoTerra si impegna a garantire gli oli essenziali della più alta qualità e purezza possibile. Noi ci avvaliamo di una rete globale di agricoltori che conoscono intimamente tutte le fasi necessarie nella coltivazione delle piante, da cui vengono estratti gli oli essenziali. Sono loro a garantire che la pianta venga curata adeguatamente e raccolta nel suo migliore momento di maturazione. DoTerra ha unito inoltre le più avanzate e moderne tecniche di analisi per garantire la purezza e l'efficacia di ogni singolo olio essenziale. Ogni olio essenziale DoTerra viene analizzato e testato secondo i criteri più rigorosi. Questo protocollo di testatura, CPTG, certificazione di purezza e di alto grado terapeutico, definisce gli alti livelli degli standard in materia di qualità, purezza, efficacia e consistenza. Quando un olio essenziale viene valutato degno di essere commercializzato come un olio DoTerra, avete la certezza che contenga il più alto grado di costituenti benefici attivi e che sia della massima purezza e libero da contaminazioni e adulterazioni. In DoTerra sappiamo che la cura e l'attenzione, nonché l'impegno di fornire il meglio, non riguarda solo noi. Sono le stesse qualità che ognuno di voi impiega per prendersi cura delle persone che ama.